ok durante l'intervallo marco ci ha fatto una domanda chiedendo se era possibile utilizzare siamo così sorted anche nell'iterazione per items quindi per per tuple la risposta è sì se vado a prendere esempi che ho fatto avete visto che voti punto items da una lista di tuple una lista di tuple può essere ordinata sorted così questo sorted lavora sulla lista quindi ordina gli elementi della lista quando gli elementi della lista sono tuple il criterio di ordinamento che ora fa va prima a confrontare il primo elemento di ciascuna tupla e li ordina sulla base del valore del primo elemento se poi capitasse che il primo elemento di due tuple diverse della stessa lista fosse uguale allora andrebbe a vedere il secondo elemento le confronterebbe sulla base del secondo elemento in questo caso non può mai capitare perché il primo elemento sono chiavi e quindi sono uniche per definizioni quindi in questo caso se uno vuole usare l'iterazione per item quindi con chiave valore ma farla contemporaneamente in modo ordinato può tranquillamente usare un ciclo for in sorted di voti punto items quindi mette insieme diciamo così sia il sorted del del dizionario sia gli items del dizionario e funziona tranquillamente insieme ok chiuso la parentesi vediamo invece questo che avevo accettato prima che forse è l'uso più più frequente dei dizionari come contenitori di dati come record di dati noi spesso dobbiamo rappresentare dei dati che sono dati strutturati ad esempio qua c'è ci sono i dati di una persona e questa persona ha un cognome un nome una data di nascita un luogo di nascita è una professione ad esempio e se dobbiamo il nostro programma rappresentare tante persone di questo tipo ciascuna persona in realtà avrà gli stessi 5 campi ogni persona avrà un nome ogni persona avrà un cognome ogni persona avrà un data di nascita un luogo di nascita è una professione tra l'altro teniamo presente che nessuno di questi campi è univoco nessuno di questi campi può essere usato come come chiave perché di join possono essere tanti dopo potrebbe poi di come cognome possono essere tanti persone nate nel 1971 anche e così via allora come facciamo a memorizzare dei dati di questo genere a gestire i dati di questo genere immaginiamo di avere una lista di persone per ciascuna delle quali ci saranno queste cinque informazioni allora un modo potrebbe essere quello di usare una lista di liste una lista di liste potrebbe essere una lista in cui metto come primo elemento una lista che contiene i dati di john doe virgola 1971 virgola nato a new york virgola studente no qui a brevio semplicemente i dati questa è la prima persona virgola se avessi una seconda persona che si chiama frank qualche cosa k 1980 nato a washington e lui è un professionista poi una terza persona che si chiama mary l lamb la quella pecorella che nel 1945 nata in uk e professione singola cantante e così via potrei costruirmi una struttura di questo genere è in grado benissimo di memorizzare tutti i dati che mi servono poi ovviamente quando voglio sapere la data di nascita di una persona quindi diciamo così dati uguale chiamiamo dati questa lista questa struttura dati quindi io potrò fare che ne so dati di due e questo mi da tutti i dati di ml la seconda la terza riga della tabella se io facessi dati di due due mi darebbe la data di nascita 1945 di ml allora mentre il primo indice ha ha un senso logico perché il primo secondo il terzo il quarto personaggio il secondo indice è un pochino più difficile da gestire perché devo ricordarmi che lo zero è il cognome anzi il nome uno è il nome due è la data di nascita tra il luogo di nascita e quattro la professione e questo è un mapping che so solo io e quindi a livello di codice quando un legge due deve ricordarsi ma il due che cosa rappresenta già la data di nascita il luogo di nascita ok però si può fare l'altro modo di farlo è avere varie liste quindi una lista di nomi ad esempio che contiene il nome del primo elemento j il nome del secondo elemento f il nome del terzo elemento m questa volta abbiamo solo tre una lista di cognomi che contiene il cognome del primo elemento d il cognome del secondo elemento k il cognome del terzo elemento l una lista di anni di nascita che conterrà 1971 virgola 1980 virgola 1945 i luoghi di nascita luogo luoghi che saranno lista che contiene new york virgola washington virgola uk e la professione che sarà s virgola p virgola s di nuovo ad esempio in questo caso anche qui abbiamo rappresentato gli stessi dati tutti i dati in un modo diverso abbiamo più liste ciascuna lista si occupa di un attributo di questa persona l'attributo fosse il nome l'altro attributo fosse il cognome l'altro attributo fosse la data di nascita sono vettori che sono dal punto di vista del linguaggio separati indipendenti noi però li dobbiamo pensare ops cancellato tutto mi sa che l'ho perso si è perso scusate ho toccato la cosa sbagliata e la notazione si è persa li dobbiamo le riscrivo semplicemente così li dobbiamo pensare come vettori in un certo senso paralleli nel senso che se abbiamo il nome e il cognome di un certo signore il nome dovrà essere nella posizione che ne so 3 il cognome corrispondente sarà nella posizione sempre 3 del secondo vettore e l'anno di nascita sarà sempre nella posizione 3 del terzo del vettore che si chiama anno il luogo di nascita sarà nella posizione di indice 3 del luogo di nascita e così via e ovviamente anche per la professione quindi siamo noi che dovremmo fare attenzione di elaborare in parallelo io così è un nome che non è stabilito ma li chiamo vettori paralleli quando capita così se no ho delle liste parallele che devono avere tutte le stesse lunghezza e deve essere sicuro che nella cella di indice 0 di tutte queste liste ci siano informazioni relative alla stessa persona quindi questo taglio verticale che si fa è nella mente del programmatore che sa che queste liste sono da leggere in questo senso prendendo gli elementi di pari indice delle varie liste se qua mi sbaglio cancello un elemento da una lista e non lo cancello da tutte le altre corrispondenti chiaramente si disallineano i dati quindi sia nel primo caso lista di liste il programmatore doveva avere in mente le colonne e questo chiaramente non è diciamo automatico e poi devo essere sicuro che tutte le liste sono gli stessi elementi in questo modo stiamo vedendo i stessi dati ma girati diciamo così di 90 gradi in un certo senso e quindi anziché per persona li memorizziamo per tipo di informazione però anche qua il programmatore stesso che deve fare attenzione nel gestire queste informazioni ok questa è ad esempio la struttura che vi ho visto utilizzare in molti negli esercizi dello scorso laboratorio no quell'esercizio là dove c'era una persona e spese nel ristorante funziona non c'è problema in realtà ci sono altre possibilità uno potrebbe creare una lista di tuple un'altra tupla e così via che esattamente sarebbe come la lista di liste con la differenza che le tuple poi non le posso modificare mentre le liste sì ma sono dettagli alla fine però per accedere al secondo campo della terza tupla devo ricordarmi cosa c'è nel secondo campo se lì c'è il nome se il cognome o c'è la data i record ci permettono di risolvere questo problema di rappresentazione di dati strutturati cioè con più campi che hanno significati diversi ma uniformi cioè tante persone hanno tutti gli stessi dati ci permettono di memorizzarli in un modo più comodo con rappresentando ciascuna persona attraverso un dizionario un dizionario che contenga come chiavi e della singola persona il john do di prima lo rappresentiamo non più come una lista come era in questa slide ma come un dizionario in cui le chiavi sono il significato del campo sono gli attributi e ovviamente i valori saranno il valore che ha quel persona specifica relativamente a quell'attributo quindi ad esempio si possono chiamare nome cognome data di nascita città e professione le chiavi del dizionario e i valori sono i valori associati a questo john do per questi cinque attributi alla fine ho memorizzato questi cinque dati così come li avevo memorizzati nella lista la differenza che nella lista io potevo accedere i dati per indice questa lista quasi mai l'avrei iterata con un range perché il significato del campo zero dell'uno e del due sono diversi quindi che senso avrebbe iterato in un ciclo avrei comunque sempre pescato mi serve il campo due adesso perché mi serve la data mi serve il campo quattro perché mi serve la professione e qui devo sempre ricordarmi mentalmente questo mapping se io rappresento gli stessi dati non come lista ma come dizionario ottengo gli stessi dati ma in un modo più facilmente accessibile più facilmente più facile da ricordare quando voglio il dato di nascita scriverò people di tre la terza persona che ho la quarta persona che ho memorizzato data di nascita è birth date questo ipotizza che io metta le varie persone in una lista diamo le parentesi quadre qua e quindi man mano che leggo informazioni su una persona le appendo a una lista e ciascun elemento di questa lista è un dizionario quindi che ha i campi parlanti cioè i singoli attributi hanno un nome quindi è molto più chiaro leggibile dire ok adesso mi serve la data di nascita di questa persona piuttosto che non dire mi serve il campo due e vatte a ricordare che cos'è il campo due allora in questo caso abbiamo una lista di dizionari la lista può contenere un numero arbitrario di elementi ciascun elemento è un dizionario questo dizionario descrive una persona un oggetto un'entità e la cosa particolare è che tutti questi dizionari avranno tutti le stesse chiavi perché se la persona uno giondo ha un nome un cognome un dato di nascita anche la persona due avrà nome con nome di data di nascita e anche la persona tre avrà nome con nome di data di nascita quindi sono tutti i dizionari in cui le chiavi non rappresentano i dati ma rappresentano il nome degli attributi con cui vogliamo rappresentare tali dati e con i metalli sono uguali per tutti rappresentano la struttura che vogliamo dare ai dati prima ho usato due aggettivi dati strutturati uniformi strutturati perché ogni dato ogni persona ha una struttura interna dei campi dei sottocampi uniformi perché tutte le varie persone sono rappresentate tutte nello stesso modo questo è un modo di rappresentazione molto utilizzato quando dobbiamo elaborare delle tabelle di dati immaginiamo di avere un file che contenga dei dati uno per riga qui c'è un esempio in cui si immagina di avere un file che contenga qui usiamo il termine generale record perché prima parliamo di persone ma magari non sono persone sono città magari non sono città sono allora il termine record significa un dato unico strutturato però su più campi ok allora se immaginiamo che era un file in cui ci siano dice nazione e popolazione separate da due punti quindi potrebbe esserci qualcosa tipo italia due punti 60 milioni metto un numero così circa e poi non so potrebbe esserci francia due punti che non so facciamo finta che siano 50 non so se sono un pochino di più o meno di noi e così via un file strutturato con dei campi delimitati qui noi già sappiamo come gestire questo noi possiamo leggere dal file una riga splittare questa riga su due punti e questo mi dà una lista questo split mi dà una lista il cui primo campo in questo caso sarà Italia e il cui secondo campo sarà 60 milioni noi però anziché memorizzare questa lista così com'è e quindi ricordarci che Italia il nome della nazione è nella posizione 0 e il nome della il numero della popolazione nella posizione 1 creo un dizionario che ha due chiavi la prima la chiamo country la seconda la chiamo popolazione e nella country ovviamente ci metterò il nome della nazione e nella popolazione ci metterò ovviamente la il valore numerico della popolazione convertito in intero quindi questo campi di 0 e campi di 1 che costituivano questa mia lista filz li ho memorizzati dandogli un nome questo estrae un singolo record immaginate questo dentro un loop che iteri fino alla fine del file creerà ogni volta tanti record ogni record è rappresentato da un dizionario questo dizionario contiene due campi due attributi campi attributi diciamo come sinonimi la cui chiave sono sempre la stessa country sempre le stesse due country population e i cui valori ovviamente dipendono dal contenuto del file quindi in qualche modo i nomi degli attributi è come se fossero i nomi delle colonne ok è come se io dicessi la prima colonna qua si chiama country la seconda colonna qua si chiama population e poi il file è strutturato a tanti dati io man mano che leggo il file vado a spacchettare i dati e li memorizzo ciascuno dietro all'attributo corrispondente usato come chiave di un dizionario questo è il modo standard di leggere i dati strutturati da un file e poi ovviamente una volta che ho questi record li potrò usare andando a leggere appunto da questo record il nome della nazione la popolazione eccetera eccetera o tendenzialmente andare aggiungere tutti i record dentro una lista così mi memorizzo tutti i dati che hanno contenuto nel file vediamo un esercizio che usa questo che è se vi ricordate l'esercizio che avevamo ricostruiamo una versione dell'esercizio che avevamo fatto la prima lezione del corso in assoluto come esempio questo qua non funziona mica bene scusate perché non c'ha le virgole non so se lo fai giusto scusate un attimo ripartiamo da capo cioè ricordate che la prima lezione allora ma scusate nel frattempo rispondo alla domanda di Marco se nella lista i nomi di dizionario sono gli stessi cioè i nomi dei campi delle chiavi di dizionario sono sempre gli stessi dal primo all'ultimo elemento tutti gli elementi si chiamano allo stesso modo allora facciamo l'esercizio che appunto se ci ricordiamo abbiamo visto la prima la variabile di dizionario è un in questo caso è una sola lista una variabile lista ok che contiene tanti elementi ciascun elemento della lista è a sua volta un dizionario ma lo vediamo subito con un esempio allora c'eravamo fatti all'inizio dell'anno la domanda qual era la persona il nome più frequente all'interno degli studenti ci abbiamo ragionato un po' e poi abbiamo visto il risultato adesso abbiamo tutti gli elementi per poterlo verificare quindi io posso portare la didattica estrarre l'elenco delle persone e prendiamo questo file e vediamo di elaborarlo e quindi vediamo come leggerlo memorizzarlo e estrarre l'informazione che ci servono in questo caso c'è un'esportazione in formato csv del file lo salviamo dove ho il progetto qua ok vado a sostituire il file di prima che probabilmente non era a posto ok e questo è il file che ho scaricato in tempo reale cioè tutti i testimoni dal portale della didattica non è una cosa che mi sono preparato ok questo è il file che contiene le informazioni sugli iscritti al mio corso voi qui siete qua in mezzo ok ciascuno di voi è da qualche parte qua in mezzo il formato di questo file qual è? è un formato csv comma separated variables quindi ci sono tante variabili la matricola il cognome il nome l'indirizzo di mail il codice del corso con i crediti il corso di laurea e l'iscrizione la frequenza e un po' di altre informazioni l'anno di in cui l'avete messo il corso nel carico didattico e cose di questo genere poi qui c'è scritto attivo altre volte ci sarebbe scritto superato se invece qualcuno avesse già superato l'esame ok la prima riga contiene le spiegazioni matricola virgola cognome virgola nome virgola email virgola codice crediti virgola corso di studi studente eccetera eccetera questi campi sono separati da virgola e quindi questo file per essere letto dovrà essere splittato sul carattere virgola ok il carattere virgola per fortuna non compare da nessun'altra parte all'interno dei file cioè è vietato che la virgola faccia parte del nome o faccia parte dell'indirizzo di mail e quindi non ci sono grosse difficoltà grosse complessità allora noi cosa vogliamo fare vogliamo innanzitutto leggerci questi questi dati innanzitutto dati che poi ci permette di fare delle elaborazioni ok quindi faccio un nuovo file chiamiamolo elabora gli scritti in cui diciamo così leggiamo elenco degli scritti al corso dal file csv della segreteria memorizzandoli come come una lista di dizionari quindi ogni studente se siamo in o se siete in quanti sono se siete in 348 perché le righe del file sono 349 ma la prima è un'intestazione avrò una lista con 348 elementi ciascun elemento ciascun elemento sarà un dizionario un dizionario che contiene i dati di quello studente specifico ok quindi ciascun studente sarà rappresentato nei seguenti campi magari non ci servono tutti ci serve solamente cognome nome matricola email facciamo finta ok che ci servono questi quattro campi in quest'ordine gli altri non mi interessano ipotesi ok e quindi non è detto non sono obbligato a estrarli tutti a memorizzarli tutti memorizzarli solamente quelli che mi servono allora come come posso leggere un file di questo genere allora ci facciamo la nostra funzione leggi file che riceve come parametro il nome del file che aprirà il file e cercherà di costruire il dizionario quindi il dizionario chiamiamo studenti la lista di dizionari quindi è una lista quindi la inizializzo come una lista vuota adesso questa lista contiene zero studenti ogni volta che leggerò una riga del file costruirò un dizionario che aggiungerò all'interno di questa lista quindi apro il file file uguale open nome file in lettura accept audio error due punti possibile aprire il file e restituisco la lista vuota se non riesco a aprire il file faccio finta di avere zero studenti e restituisco la lista vuota altrimenti vado avanti e creo per ogni riga del file creo gli elementi ok quindi avrò il mio line in file solito ciclo che cicla sulle varie linee ogni linea devo dividerne i suoi campi quindi i campi sono line punto r trip togliamo la capo finale split sulla virgola quindi creiamo una lista che contiene le varie stringhe che corrispondono ai pezzettini della linea ok e quindi abbiamo un record che rappresenta un singolo studente che possiamo costruire come dizionario con cognome com'è cognome il cognome lo estraggo dal campo numero 1 0 1 2 campo 1 quindi cognome arriva da campi di 1 poi avrò mi servirà il nome che mi arriva da campi di 2 se non sbaglio perché tutte le volte che con questo 1 questo 2 devo ogni volta andare a controllare nel file questo è rappresentativo di quanto sia scomodo lavorare con i numeri poi volevamo usare la matricola abbiamo detto ok la matricola è campo 0 matricola come chiave matricola è campi di 0 ok attenzione che la matricola è un numero intero allora la posso convertire in intero qui ovviamente nel momento in cui estraggo i campi prima di memorizzare nella mia struttura dati farò tutte le operazioni di pulizia che mi servono la matricola è un intero lo rappresento come intero se ci fossero dei campi come diciamo citava il vostro compagno sulla chat che contengono questi spazi davanti e dietro magari questi spazi li ripuliamo con uno strip sinistra e destra perché ovviamente nelle stringhe ci sarebbe questa stringa che corrisponde a questo campo contiene spazio trattino spazio ok questo lo possiamo fare in questo caso non ci serve perché questi campi qui abbiamo scelto di non leggere abbiamo scelto solamente di abbiamo deciso che ci interessano solamente questi quattro campi per il momento quindi però in questo nel momento in cui estraiamo il campo per costruire il record lo ripuliamo lo mettiamo a posto e poi ci manca ancora l'email abbiamo detto email due punti sarà campi di qual'è l'email 0 1 2 3 il campo indice 3 questo è un dizionario che rappresenta uno studente poi questo studente lo aggiungo alla lista degli studenti append record e a questo punto quel dizionario viene inserito nella lista che avrà un elemento in più e poi posso passare quindi alla linea successiva del file se ho capito bene la domanda di Marco che ha fatto già un po' di tempo fa ma io sto riusando questa stessa variabile record più volte all'interno del ciclo non crea dei problemi no non crea dei problemi perché ogni volta sto creando un dizionario nuovo attenzione a questa parentesi quadra vi ricordate quando parlavamo delle liste e dicevamo guarda che tu quando scrivi list o quando apri una parentesi quadra stai creando una lista nuova la stessa cosa succede con i dizionari qui io non sto riusando lo stesso dizionario che c'era nell'interazione precedente con il rischio di avere più copie dello stesso dato ogni volta sto creando un dizionario nuovo semplicemente una variabile di appoggio che è sempre la stessa ma viene inizializzata qui usata qui e al giro dopo viene riscritta con un nuovo valore ma lo vediamo in debug adesso andiamo passo passo in debug per capire meglio cosa succede ok alla fine quindi alla fine di questo for ho finito il file e nella lista studenti avrò tutto avrò tutti i record di tutti gli studenti e quindi posso tranquillamente restituire studenti al chiamante quindi questa funzione restituisce una bella struttura dati di 380 quanto sono 340 righe ciascuna delle quali contiene elementi non righe ciascuna delle quali contiene quattro capi ricordiamoci ovviamente di chiudere il file file punto close prima di ritornare dalla funzione ok proviamo a vederlo passo passo ecco c'è ancora un dettaglio che che da sistemare che la prima riga bisogna saltarla la prima riga non la dobbiamo non la dobbiamo leggere perché non contiene i dati di uno studente vero e proprio anzi se non la saltassimo ci spara una bellissima eccezione qua quando cerchiamo di prendere matricola e convertirla in intero e allora in questo caso dobbiamo fare una prima una piccola modifica con un flag ad esempio che no scusate dov'è il il for sì subito prima del for vabbè il modo pulito è questo metto un flag che si ricorda se era la prima riga se era la prima riga non fai nulla e metti prima falso altrimenti fai tutto quello che dovevamo fare prima quindi lui alla prima riga quando entra in questo for prima è true e quindi entra qui mette prima a force non fa nulla quindi quella però la linea l'ha letta l'ha letta qua sa che la prima non fa nulla questa parte viene saltata e torna su al for a leggere la seconda riga la seconda riga prima sarà falso perché sulla prima riga l'avevo messo a falso e quindi farà la parte dell'else questo è il modo più esplicito l'altro modo come dicono come dite voi sulla chat Michele suavo e faccio una redline a vuoto fuori dal ciclo è anche un altro modo di farlo esattamente ottengo esattamente lo stesso risultato ok in questo caso col flag se mi servisse potrei anche andare a leggere gli elementi della linea ma non mi serve in questo caso è equivalente è un pochino più veloce con la redline all'inizio magari ricordatevi mettere un commento per ricordarvi cosa fa perché altrimenti dopo un po' vi perdete ok proviamo a vedere come dicevo in modalità debug quindi usiamo una legge chiamiamo semplicemente la leggi file studenti uguale leggi file ed è un file che si chiama con questo nome strano vediamo cosa fa mettiamo un breakpoint qua e lo eseguiamo in modalità debug passo passo no scusate qua ok vi ho messo un breakpoint alla prima riga della funzione qui non abbiamo ancora nessuna variabile quindi lo stiamo costruendo un po' per volta inizializzo una lista vuota quindi primo passaggio ho creato una lista con intero studenti vabbè poi apro il file sperando che tutto vada bene ok ho aperto il file sull'oggetto file non c'è nulla di utile il contenuto del file sono tutte informazioni interne che usa lui per gestirselo quindi non c'è nulla da stampare se avete provato a stampare il file vi stampa una cosa di questo genere text riga di intestazione questa line qua matricola cognome eccetera sarà la prima e quindi non fa nulla e torna su a leggere la seconda riga allora il lavoro inizia dalla seconda riga chiaramente questa riga è questa signora Nunzia Scarano e la line è semplicemente una stringa di questa stringa cancello il barrenne finale e poi la diviso sulle virgole per ottenere i vari campi ecco qua i campi sono questi campo 0 è la matricola campo 1 è il cognome campo 2 è il nome campo 3 è l'email eccetera eccetera ci sono tutti i vari campi in totale sono 16 campi da 0 a 15 corrispondenti ai valori di quella riga questo è il risultato della split poi siamo arrivati qua e quindi stiamo costruendo il dizionario andando a estrarre i vari pezzettini quindi campi di 1 lo vedo anche qua è il cognome poi campi di 2 e lo sognerò alla chiave cognome quindi quando eseguo questa istruzione che crea il dizionario crea una nuova variabile scusate devo andare avanti una per una crea una variabile record che ho qua sotto che è un dizionario e questo dizionario contiene questi quattro campi cognome nome matricola email poi la lunghezza del dizionario è il numero di elementi che contiene in questo caso è 4 ovviamente quindi questa variabile record contiene i dati di questa persona questi dati con questa istruzione append li aggiungo alla lista di studenti che finora era vuota quindi quando eseguo questo append la lista di studenti a questo punto non è più vuota ma contiene un elemento chi è questa prima persona fatto questo torno a leggere la liga successiva del file che conterrà Matteo Abate faccio le stesse operazioni quindi separo in campi a questo punto la variabile campi conterrà i vari dati di Matteo Abate costruisco il record che conterrà il dizionario con i quattro campi selezionati di questa persona e lo aggiungo e lo aggiungo la lista di studenti lista che adesso contiene due elementi che se le vado a espandere sono ovviamente Scaram e Abate e se avete tanta pazienza andate avanti così per altre 300 e più iterazioni vediamo se c'è la funzionalità per dire ecco esegui fino alla fine della funzione quindi io faccio andare avanti veloce non passo passo fino a quando non esce la funzione e a questo punto dovrei poter vedere il programma è finito quindi la variabile studenti non ho vista dovrei poter vedere la variabile studenti facciamo così print la risoluzione in più e mettiamo un breakpoint qua così lo reseguiamo e possiamo vedere il risultato finale di tutto il lavoro ok quindi seguiamo fino alla fine facciamo un passo ecco prima di fare la print vediamo questa variabile studenti che contiene come avevamo previsto 348 elementi tutti i dizionari e tutti con le stesse chiavi ok un po' di pulizia forse ci sarebbe da fare perché ci sono alcuni studenti come questa la prima è proprio capitata la prima che ha un asterisco perché significa che viene inserita a mano la segreteria qualcosa di questo genere ma vabbè dimentichiamo questi dettagli ok abbiamo tutti questi vari nomi e questo è il modo che diciamo così abbastanza standard per leggere le informazioni quando sono presenti in un file tabulare prego ogni riga conterrà un record e ogni record è composto da vari campi i campi delle varie righe sono gli stessi ok adesso andiamo avanti se non ci sono dubbi su questo punto a ricostruire l'esercizio che avevamo fatto la prima lezione adesso abbiamo gli studenti vogliamo trovare quali sono i nomi più frequenti degli studenti stessi quindi innanzitutto quindi aggiungiamo nei commenti ciò che vogliamo fare a partire dall'elenco degli studenti determinare quale sia il nome più frequente della classe nella classe allora cosa vuol dire il nome più frequente vuol dire che io devo per ogni nome contare quante volte compare abbiamo già fatto un po' di giustizio di questo genere adesso qui come vedete verso la fine del corso mettiamo insieme cose che in versioni più semplici avevamo già risolto e se riusciamo a ricordarci il ragionamento che avevamo fatto riusciamo ad andare abbastanza velocemente allora io farei due passaggi per ottenere questo risultato il primo passaggio puramente di comodo è che alla fine non me ne frega niente dei cognomi non me ne frega niente delle matricole eccetera eccetera dei dizzi di mail quindi magari potrei costruirmi una lista contenente solo i nomi che dite una lista che abbia solamente i nomi così poi lavoriamo solamente con una lista di string che contiene i nomi puliti senza dover ogni volta lavorare sui dizionari questo potrebbe essere un modo e quindi possiamo farsi una funzioncina che estrae semplicemente una lista di nomi a partire dal lenco di tutti gli studenti beh questo è molto facile da fare perché basterà prendere una lista vuota e aggiungersi dentro i nomi di tutti i record che incontro quindi for record in studenti nomi.append abbiamo detto record in attenzione record facciamo così sì questa è una lista scusate quindi record è il valore dell'elemento della lista che a sua volta è un dizionario e quindi di questo dizionario mi interessa il campo nome e lo metto in questa lista e quindi posso ritornare l'elenco dei nomi quindi ho estratto una fetta del dizionario se dovessi fare solo questo lavoro avrei forse già potuto durante la lettura del file leggere solamente i nomi e ignorare il resto però magari in un programma più complesso bisogna fare più operazioni una delle quali è calcolare la frequenza dei nomi e allora dai dati completi mi costruisco una lista che contiene i nomi e quindi questa cosa qua cominciamo a metterla a fare anche un main così lavoriamo in modo più ordinato lo chiamiamo in fondo dopo questa lista di studenti possiamo avere la lista di nomi uguale estrai lista nomi da studenti e quindi questa lista di nomi la possiamo vedere lista non lista non lista nomi quindi abbiamo il dizionario dal dizionario estraiamo solamente in modo verticale tutti gli elementi che hanno un determinato attributo quindi in questo caso il nome e quindi abbiamo questi nomi elencati così nel caso dei nomi doppi che contengono lo spazio compaiono come se fosse un nome unico se non ci piacesse nel senso che se volessimo che ad esempio Antonio Karim venisse contato sia come Antonio che come Karim dovremmo modificare questa funzione estrai lista nomi fare a sua volta uno split sul spazio e se ci sono spazi aggiungere uno a uno i vari elementi anziché aggiungere l'intero nome come l'intero campo nome come fosse un'unica stringa però vedete che se io riesco a decomporre il programmino come funzione poi i vari affidamenti so diciamo così farli so dove farli andrò semplicemente a rendere un pochino più complicata un pochino più intelligente la singola funzione senza toccare tutto il resto quindi mi piace avere una prima versione semplice che non gestisca magari casi particolari casi strani e poi dopo quando funziona vado a eventualmente a migliorarla o a o a decidere come trattare dei casi a cui prima non avevo pensato ok a questo punto data questa lista devo calcolare le frequenze quindi quante volte compare Nunzia Pia probabilmente una volta sola quante volte compare Matteo noi sappiamo che possiamo fare un count sulla lista ma poi il risultato di questo count dove lo mettiamo se ci fossero dieci Matteo io posso fare count di Matteo di questa lista e poi dove lo metto questo risultato dovrò mettere da qualche parte associato al nome Matteo ma allora vuol dire che posso fare un dizionario un dizionario che come chiave abbia il nome e come valore abbia la frequenza quindi un dizionario completamente diverso da quelli di prima in una funzione calco la frequenza che riceve semplicemente una lista con i nomi calcola costruisci un dizionario che come chiave ha il nome di uno studente e come valore ha il conteggio di quante volte quel nome compare nella lista dei nomi ok io in questo momento ho in mente due modi diversi di farlo lo faccio nel modo più breve per prima poi eventualmente se abbiamo tempo lo vediamo nell'altro è chiaro cosa vogliamo ottenere cioè noi abbiamo questo facciamo un esempio se noi avessimo in ingresso la lista A B A A C B ok quello che voglio ottenere è un dizionario in cui mi dice che il nome A compare tre volte il nome B compare due volte se non sbaglio e il nome C compare una volta ok allora come possiamo fare crea un dizionario chiamiamo frequenze vuoto e poi all'interno di questo dizionario ci andrò a mettere i vari nomi via via di chi li trovo quali sono i nomi che devo usare come chiavi del dizionario le chiavi del dizionario le chiavi del dizionario sono i nomi unici della lista allora come trovo i nomi unici di una lista converto la lista in un set chiavi uguale set di nomi e ho trovato un set di nomi unici quindi sarà ho preso la lista ho tolto tutti i duplicati e ho fatto un unico insieme adesso per ciascuna di queste chiavi devo contare quante volte compare quindi le prendo una per una for nome in chiavi questo ciclo lo faccio sul set non lo faccio sulla lista perché quando conto quante volte compare Matteo l'ho fatto una volta sola se poi più avanti ricompare di nuovo Matteo perché lo devo ricontare no lo faccio solamente sui nomi unici e quindi la frequenza di questo elemento sarà semplicemente il count quindi conto quante volte dentro nomi compare questo nome count l'abbiamo visto un mese fa o due mesi fa una lista di stringhe una stringa che è il nome che ho preso tra i nomi unici che mi sono calcolato con l'insieme conto quante volte questo nome compare tra uno e chissà quanto sicuramente almeno uno questo count perché se questo elemento nome l'ho trovato all'interno delle chiavi le chiavi le ho estratte dalla lista e quindi di sicuro c'è una volta che ho questa frequenza io posso aggiungere al mio dizionario delle frequenze l'informazione che ha questo nome Matteo ha questa frequenza e ho finito ho finito questa parte quando ho finito di per ogni nome unico cantare quante volte compare aggiungere un dizionario avrò alla fine un dizionario che contiene come chiavi tutti i nomi unici come valore tutte le frequenze di quel nome vediamo se è vero andiamo a aggiungere questo la lista nomi ce l'abbiamo frequenze uguale calco la frequenza della lista nomi print frequenze Matteo mi dice anzi Matteo Lorenzo visto che stiamo contando i nomi unici i nomi duplicati li abbiamo eliminati sì chiavi contiene i nomi unici ma io il count lo faccio su nomi che è la lista di partenza quindi i nomi unici non li ho eliminati dalla lista di partenza ho creato un set in cui i duplicati non ci sono più ma sulla lista di partenza nomi ci sono ancora ok non ho mai modificato quella lista allora vediamo cosa esce esce Melissa 1 Luana 1 Elena 1 Giulia 4 Sara 3 Federica 2 Bolong 1 Anton Giulio 1 Matteo Lorenzo 1 Tatiana 1 eccetera eccetera ovviamente nella miglior tradizione degli insiemi dei dizionari vengono fuori in ordine sparso e adesso ci servirà a sapere quali sono i nomi più frequenti no? adesso ho questo dizionario qual è o quali sono i nomi con maggior frequenza sono quelli cui valore associato è massimo quindi potrei ad esempio calcolare questo lo posso fare anche direttamente nel main che la massima frequenza qual è? è il max dei valori del dizionario frequenze è questo dizionario ricordiamoci frequenze punto values è la lista che contiene tutti i valori fregandosene del nome quindi è una lista di numeri e che mi tira fuori a questo punto in una lista di numeri posso applicare il max normalmente il max non lo posso fare su un dizionario non avrebbe senso posso farlo o sulle chiavi ma in questo caso mi darebbe il primo o l'ultimo nome in ordine alfabetico oppure sui valori poi per carità se volete fate un ciclo for lo calcolate a mano questo max quindi vediamo solo cosa esce e dice che il nome più frequente compare ben 14 volte qual è questo nome? lo devo andare a cercare adesso qua purtroppo abbiamo fatto finora abbiamo fatto tutto in modo molto comodo perché il dizionario già ci dava il set ci trovava i duplicati il dizionario ci faceva separare i nomi dalle frequenze eccetera adesso sappiamo che c'è qualcuno qualche nome che compare su 14 persone ma non sappiamo qual è e beh questo qua ce lo facciamo con un piccolo ciclo andiamo a cercare iteriamo for nome for nome possiamo anche farlo come come frequenza in sorted abbiamo visto prima si chiama frequenze punto items iter su tutte le copie nome valore dove il nome è appunto nome e il valore è la frequenza lo metto sorted perché così me lo fa vedere in ordine alfabetico per nome e quindi quelli si stamperà e stamperà in ordine alfabetico se la frequenza di questo nome è uguale alla massima frequenza vediamo chi è print nome ovviamente se per caso ci fossero più nomi che hanno sempre 14 come frequenza li stamperò tutti in questo caso no? vado a vedere tutto il dizionario tutte le volte che trovo un nome la cui frequenza sia uguale al massimo lo stampo e the winner is Andrea ciò che vorrebbe fare Michele che mi chiede ma io potrei ordinare un dizionario? no i dizionari non hanno un ordine come insieme non si possono ordinare se volessi ordinarlo dovrei farlo dovrei prima di tutto diciamo così convertirlo in una lista allora la lista poi si può ordinare e quindi ad esempio se ci interessasse non solamente il nome più frequente ma se ci interessasse la classifica dei nomi più frequenti allora a questo punto dovremmo prendere queste frequenze travasarle in una lista ordinare questa lista secondo il criterio dei numeri e non secondo il criterio dei nomi allora possiamo vedere questo passo se vogliamo se non ci sono domande fino a questa parte possiamo vedere il passo successivo prima di andare avanti però sto aspettando un attimo per vedere se arrivano domande volevo solo diciamo così il trucco di questa funzione è che usa set e count ok e quindi ci siamo semplificati di molto la vita perché ci siamo ricordati che per trovare i nomi univo ci bastava creare un set per contare bastava contare il numero di elementi ma cosa capita se invece nel momento del bisogno non ce lo ricordiamo allora in realtà la cosa si può fare esattamente nello stesso modo a mano lavorando direttamente con i cicli ok la programmazione non è ricordarsi la funzione giusta al momento giusto a volte ti può aiutare ma in ogni caso l'algoritmo che devi avere in mente è sempre lo stesso quindi io provo adesso a fare un'altra implementazione chiamato BIS della stessa funzione senza usare queste scorciatoie che sono legittime e vanno benissimo però magari su quel momento non ci viene in mente quella strada è sempre bene essere sicuri che una strada la sappiamo trovare da soli ok anche se non ci ricordiamo quella propria funzione che cascherbbe a fagiolo allora noi dobbiamo sempre costruire abbiamo detto un dizionario contenente le frequenze non ci ricordiamo la cosa degli insiemi eccetera eccetera allora cosa possiamo fare possiamo fare iterare nei nomi uno dopo l'altro questo lo so fare ho una lista di nomi li prendo uno per volta e verifico ok questo nome qui è la prima volta che lo vedo perché io ho partito da un dizionario vuoto ok se è la prima volta che lo vedo lo devo mettere nel dizionario se non è la prima volta che lo vedo vuol dire che l'ho già visto in passato e quindi dovrò contare incrementare il conteggio quindi la prima volta che vedo metterò uno la seconda volta poi incrementerò l'uno lo farò diventare due e così via e quindi farò una cosa molto semplice del tipo se il nome è già nelle frequenze mettiamo un note se non è ancora nelle frequenze allora la prima volta e crea un nuovo elemento frequenze di nome uguale 1 è simile a quello che abbiamo fatto prima sui voti le sue temperature la prima volta che leggo la temperatura di una persona creo il valore iniziale in quel caso era un arredio un elemento in questo caso è 1 perché conta il numero di volte in cui l'ho visto altrimenti quel nome c'è già allora lo vado a prendere e lo incremento di 1 frequenze di nome uguale frequenze di nome più 1 return frequenze questa fa esattamente la stessa cosa dell'altra ok quindi e qui non usa nulla nessun superpotere ma semplicemente iterare su una lista e verificare se un elemento è già o non è già preso presente ovviamente in un insieme in questo caso insieme delle chiavi del dizionario ok allora venendo al passo successivo che era quello dell'ordinamento perché noi adesso siamo riusciti a memorizzare i dati in un array di record abbiamo fatto dell'operazione di questo array di record abbiamo visto in questo esercizio i due usi molto diversi di dizionari questo dizionario qui ha le chiavi sempre uguali le chiavi indicano il tipo di attributo che sto memorizzando quest'altro dizionario sotto invece ha come chiavi dei componenti dei dati non sono sempre uguali dipendono dai dati che leggo quindi questa è una vera mappa che mappa il nome sul suo numero conta la frequenza perché lo faccio come dizionario e non come lista è perché così come chiave posso usare esattamente il nome che mi serve la lista sarebbe obbligata ad avere un numero intero come indice e quindi io ho dei nomi non ho dei numeri quindi è la struttura dati più comoda più adatta per questo tipo di rappresentazione quindi associa a dei dati altri dati mentre invece quando creo dei record associo a dei nomi di attributi il loro valore corrispondente è sempre un dizionario ma viene usato in modo molto diverso ok allora dicevamo l'ordinamento quindi andiamo a pescare la parte qui ci sono di ordinamento allora un dizionario non si può ordinare si può però ordinare una lista che contiene di dizionari ad esempio qui il metodo sort su un dizionario non funziona cioè su una lista di dizionari qui noi avevamo studenti che era nel nostro caso era una lista di dizionari quello che avevamo costruito con la funzione leggi file se provassimo a fare un sort di questa lista che normalmente sulla lista si può fare sort ovviamente però la lista quando cerca di fare sort deve confrontare tra loro i vari elementi primo elemento confronto col secondo per vedere se sono in una posizione giusta o se vanno scambiati di posto e non ci riesce perché dice che il confronto maggiore e minore non è supportato se le istanze che sta confrontando sono di dizionari o si rifiuta è però possibile specificare alla funzione sort una funzione che ti estrae una chiave di ordinamento quindi la funzione sorta normalmente va a prendere i valori contenuti nella lista e cerca di confrontarli direttamente però quando questi valori sono valori più complessi più strutturati e non è predefinito non è nativo il modo in cui si possono confrontare io posso aiutare la funzione sorta dicendo senti per confrontarli da ciascun elemento ti dico come estrarre la chiave di ordinamento cioè ti dico senti di questo elemento guarda solo il cognome che è una stringa e quindi puoi confrontare oppure di questo elemento guarda solo l'anno di nascita che è un numero e quindi lo puoi confrontare e quindi potrai fare l'ordinamento quindi questo attributo chi riceve come parametro e qui le cose un po' si complicano quindi ve le do un pochino già preconfezionate una funzione che se riceve un record restituisce il valore del campo chiave su cui deve essere ordinato qui si entra nel campo delle lambda function della programmazione funzionale in cui non vogliamo entrare ma vediamo solamente una versione semplificata in cui appunto io posso in generale qua definire una qualunque funzione che mi stragga il valore secondo il quale ordinare gli elementi eventualmente anche facendo dei calcoli di elaborazioni sul valore del singolo record ok ma il caso generale non lo vediamo perché ci porterebbe molto lontano ma sfruttiamo semplicemente il fatto che nel modulo operator c'è una funzione che si chiama item getter che è stata pensata proprio per questo scopo e la funzione item getter riceve il nome di un campo e crea la funzione che estrae la chiave da quel campo se negli ultimi 30 secondi vi ho creato confusione va bene fa lo stesso vediamo semplicemente dal punto di vista pratico come si usa questo costrutto quindi noi abbiamo il nostro studenti che è una lista di record che è quindi una lista di dizionari se lo stampassi così lo stamperei nell'ordine in cui i dizionari sono stati inseriti nella lista quindi l'ordine di lettura del file se le volessi ordinare per matricola potrei prendere la lista studenti e ordinarla sort passando come chiave la funzione item getter di matricola e quindi specifico il nome dell'attributo che è la chiave del dizionario contenuto nella lista secondo il quale voglio ordinare e quindi a questo punto mi stamperebbe 0,1,2 il primo, secondo, terzo studente per matricola se lo vessi ordinare per nome potrei fare la stessa cosa dicendo l'item getter estraimi dai record il nome cioè lui ordina una lista di dizionari ma in realtà pensa di stare ordinando una lista di nomi è come se lui si costruisse una lista che contiene solamente i nomi e ordinasse quella però in realtà quando mette in ordine i nomi si porta dietro l'intero dizionario in pratica è ciò che sta succedendo quindi possiamo usare l'attributo opzionale key con la funzione del thing getter ricordiamoci solo di importare il thing getter dal modulo operator e dal punto di vista pratico basta che noi specifichiamo qual è il campo del dizionario rispetto al quale vogliamo ordinare questo funziona se stiamo ordinando una lista di dizionari ok e nel nostro caso specifico nel nostro caso specifico in realtà non abbiamo una lista di dizionari da ordinare ma abbiamo solamente un un dizionario che è questo e quindi come facciamo a ordinare noi volevamo aggiungiamolo nei commenti come specifico del problema alla fine stampare i nomi in ordine decrescente di frequenza non i nomi diciamo così i primi dieci nomi 20 tutti sono troppi in ordine decrescente di frequenza allora le frequenze le abbiamo abbiamo già tutto perché tutto in questo dizionario qua che si chiama nel main si chiama frequenze appunto questo dizionario qua ma dobbiamo estrarle in un ordine finché si tratta di estrarre il max l'abbiamo fatto facilmente con questo if ma se dobbiamo invece avere tutto in ordine cosa posso fare finché è un dizionario non lo posso ordinare devo costruire una lista una lista che contenga due campi nome e frequenza va bene con un po' di pazienza costruisco una lista diciamo così lista frequenze la lista vuota e per ogni elemento del dizionario con nome e frequenza in frequenze punto items aggiungo alla lista frequenze un nuovo dizionario quindi metto delle parentesi graffe in cui metterò nome il nome e la frequenza la frequenza quindi classico modo crea una lista vuota e ci appendo degli elementi gli elementi che ci metto dentro che cosa sono? dizionari i dizionari che cosa contengono? beh ciascun dizionario contiene una coppia nome e frequenza che sono prese dalla chiave e del valore del dizionario che si chiamava frequenze e quindi qua posso stampare a questo punto giusto perché vedere cosa sta succedendo lista frequenze e mi stamperà questo era il dizionario di prima frequenze questo lista frequenze è una lista innanzitutto vediamo la parentesi quadro iniziale contiene i dizionari vediamo le parentesi graffe in mezzo e questi dizionari hanno ciascuno un nome e un valore un nome e una frequenza quindi hanno queste due chiavi quindi siamo tornati a costruire un dizionario una lista di dizionari molto diversa da quella iniziale che conteneva nomi cognomi e matricole ma solamente con le frequenze questo l'abbiamo fatto perché perché a questo punto questa lista la possiamo far ordinare facilmente dalla funzione sort quindi lista frequenze sort con chiave item getter di frequenza e poi dalla più grande alla più piccola quindi reverso uguale true item getter devo importarlo quindi devo andare su rom operator import item getter quindi alla fine torno giù e dovrei provare a stampare lista frequenze dovrebbe darmi le stesse frequenze ma partendo dai numeri più grandi vediamo se tutto funziona esatto andrea 14 seguito da lorenzo 12 luca 10 francesco 9 matteo non riesco a andare là non lo vedo ma ci sono quindi a questo punto noi possiamo semplicemente stampare diceva stampate i primi 10 for in range 0 10 print il certo nome quindi abbiamo detto lista frequenze di nome compare lista frequenze di frequenza volte e cosa abbiamo fatto lista frequenze è il dizionario la lista di dizionari lista frequenze di è il primo secondo e terzo elemento che è un dizionario per stampare Andrea dovrò prendere il campo nome del dizionario si reverse equal to serve per ordinare dal più grande al più piccolo altrimenti li avrei ordinati dal più piccolo al più grande e quindi quelli che mi interessavano sarebbero stati in fondo a dizionario invece così li ho nei primi scusate 20 elementi quindi togliamo questa è la stampa definitiva le altre sono stampe intermedie di debug che poi commenteremo e mi fa mi stampa la classifica dei nomi Andrea lo sapevamo già compare 14 volte e poi ci sono gli altri nomi così via via a decrescere e sono i primi 20 di questa strana classifica è un esercizio abbastanza complesso questo abbiamo usato tutto insieme dizionari liste ordinamenti perché era ciò che chiedeva quindi una cosa che sembrava diciamo così abbastanza semplice dimmi quali sono i nomi più frequenti in realtà richiede un certo numero di riversamenti copie di dati da un tipo di struttura a un'altra ma per semplificarci la vita per riuscire a fare i conteggi per riuscire a togliere i duplicati per riuscire a mettere in ordine giusto eccetera eccetera è un esercizio è un esercizio per non spaventarvi di complessità superiore rispetto a quella che potete trovare all'esame la lunghezza no perché alla fine sono 100 righe mal contate perché poi ci sono molti commenti quindi però questo è un tipo di esercizio molto denso perché bisogna studiarsi inventarsi vari tipi di rappresentare i dati quindi tenderemo a darvi qualcosa diciamo così che abbia questa complessità come limite superiore ecco stiamo preparando adesso abbiamo finito il tempo però stiamo preparando una dispensina con gli esercizi dalla settimana prossima cominceremo a fare esercizi che sono tarati sulle difficoltà di quelle dell'esame adesso le informazioni tecniche non ve le sappiamo ancora dare perché come sapete i tecnici adesso stanno lottando quanto il crash che c'è stato nel portale della settimana scorsa e quindi non sono ancora riusciti ad andare avanti nell'impostazione del sistema per correggere però su questo vi aggiorno sicuramente appena abbiamo delle notizie in più Michele sì c'è un mi chiede se posso ordinare con un meccanismo simile anche una lista di tuple e non una lista di dizionari sicuramente sì ma al momento non mi ricordo esattamente come quindi vado a verificare e ti rispondo questo avrebbe il vantaggio che avremmo potuto semplicemente urlare un items per restare la lista di tuple e ordinare questi items immagino che tu avessi questo in mente però il metodo la funzione key è una funzione generica che può fare praticamente qualunque cosa bisogna vedere se c'è già la versione precotta facile da ottenere senza doversi scrivere una lambda a mano ok se non ci sono domande specifiche io chiuderei qua e vi pubblico poi ovviamente anche il sorgente domani abbiamo ancora l'ultimo laboratorio che è il laboratorio su questi su insiemi dizionari poi ci sarà ancora un laboratorio che però sarà il 7 gennaio perché la settimana prossima abbiamo ancora le lezioni quindi lunedì e martedì c'è ancora le lezioni ma quello di compreso ma noi non ci siamo invece il giovedì di quella settimana non c'è ma casualmente il 7 gennaio è proprio giovedì e quella 7 gennaio faremo come laboratorio un testo simile all'esame in modo che nell'ora e mezza si risolverà un esercizio simile a quello dell'esame non più esercizi separati ma un esercizio unico in cui voi potete poi cominciare a elaborarlo pensando come se fosse un esercizio d'esame quindi noi vi prepariamo un po' di esercizi di preparazione e poi ne faremo alcuni proprio anche durante l'ora di laboratorio anche durante l'ora di lezione adesso su questa parte di dizionari lunedì e martedì faremo ancora un po' di esercizi per impratichirci misti a esercizi già in preparazione all'esame va bene vi ringrazio perché non voglio sforare troppo noi ci vediamo lunedì prossimo ma in realtà ci vediamo prima giovedì in laboratorio buon appetito buona giornata a tutti vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio